e nella complementarietà tra azienda, territorio, politica, istituzioni è quello che a noi serve e nella concretezza di essere poi a novembre con un edificio qui sostenibile alle spalle. Grazie a tutti e ora ci trasferiamo a breve nell'altro investimento già fatto un attimo solo che c'è giustamente, mi ricordavano lo champagne in ogni inaugurazione, in ogni prima pietra c'è un brindisi simbolico